Buonasera, siamo qui con uno storico, un esperto di storia pratese, Francesco Bettarini, è un ricercatore esperto in storia medievale e amministratore di una società che si chiama Incipit e fa ricerche genealogiche. Perché siamo qui con lui? Perché parleremo di Prato e delle famiglie pratesi, della storia e delle origini dei cognomi più diffusi nella nostra città. Allora, buonasera Bettarini. Buonasera. Quando nascono i cognomi e perché nascono i cognomi? Allora, l'utilizzo dei cognomi nasce con la volontà di identificare le persone. Quando a un certo punto, data la densità di popolazione, il patronimico, cioè il nome del padre, la professione e il luogo di residenza, non erano più sufficienti a giustificare o a identificare la persona nei documenti ufficiali. Questo avviene in modo più generalizzato nel nostro territorio, nello specifico quello di Prato, alla fine del Cinquecento. Quindi, una domanda, anche una curiosità, i cognomi più antichi pratesi a che epoca risalgono? L'utilizzo del cognome per alcune casate lo è attestato già nel Duecento a Prato, specialmente per le famiglie che avvantavano già una consorteria, cioè gruppi allargati di famiglie che identificavano a volte anche addirittura dei gruppi sociali o delle appartenenze politiche. Però, ecco, diciamo che nel corso del fine del Medioevo e all'inizio del Cinquecento, la città di Prato ha già un certo numero consolidato di cognomi, diciamo, sull'80-90% degli abitanti. Quindi i cognomi più antichi, tutt'oggi, presenti a Prato, risalgono al Cinquecento. Le vecchie famiglie pratesi, invece, che fine hanno fatto e quali erano i cognomi prima del Cinquecento più diffusi e poi quali sono quelli dal Cinquecento a oggi? Diciamo che le famiglie che hanno fatto la storia di Prato nella fine del Medioevo e nel Rinascimento non sono più attestate oggi a Prato come cognomi o comunque hanno ormai un rapporto, nei pochissimi casi rimasti, di tipo patrimoniale con la città. Pensiamo alle famiglie della Prato comunale come i Rinaldeschi, i Pugliesi, i Migliorati oppure da parte anche, diciamo, di famiglie che poi hanno avuto un successo, diciamo, a Firenze piuttosto che a Prato in epoca più moderna come Naldini, Niccolini, Novellucci, Buonamici, la famiglia Vai. Ecco, adesso sono o estinte o emigrate o comunque hanno ormai un rapporto solamente, diciamo, di affettività patrimoniale col territorio. Invece, la città è stata completamente sostituita nel suo tessuto di cittadinanza da famiglie provenienti in gran parte dalla campagna, sia del comune che dell'area che gravita attorno alla città, dal Mugello, diciamo, fino al Montalbano, fino ad arrivare a Pistoia. Ecco, attualmente i comuni più diffusi a Prato quali sono? I cognomi più diffusi a Prato sono, storicamente, diciamo, prima dell'immigrazione degli ultimi 15-20 anni, sono Gori e Magnolfi, per dire. E non è un caso che entrambi i cognomi non sono originari della città di Prato, ma provengono da due famiglie provenienti. Una, diciamo, dall'area Quarratagliana, quindi più vicino a Pistoia, ed è il caso dei Gori. Mentre, per quanto riguarda Magnolfi, è un cognome che ha origine nella Val di Bisenzio, in particolare nell'area di Migliana. Quindi, diciamo che quelli che sono i cognomi più attestati, non solo Gori e Magnolfi, ma anche, in gran parte, quelli che oggi caratterizzano il comune, sono, in gran parte, famiglie provenienti da fuori della città. Per capire un po' come nascono i cognomi, per esempio, l'origine di Gori e Magnolfi? Diciamo, nella stragrande maggioranza dei cognomi, l'origine è legata al nome di un antenato comune, che in quest'epoca, sostanzialmente del Cinquecento, dove venne generalizzato l'uso dei cognomi di gran parte della popolazione, era presente nella memoria collettiva dei contemporanei come un riferimento. Quindi, nel caso di Gori, si faceva riferimento a un antenato di nome Goro, che è il diminuitivo pratese toscano in genere di Gregorio, mentre, per quanto riguarda Magnolfi, anche qui, da un antenato comune, che si chiamava Magnolfo, che è un'altra versione, questa più popolare, diciamo, sulla montagna pistoiese del nome Arnolfo. Per esempio, a Prato, in Toscana, molti cognomi derivano dal nome Francesco. Tanto per far capire ai nostri telespettatori, dal nome Francesco quali cognomi derivano? Tantissimi, da Cecchi a Franceschi, a Franceschini a Cecchini, fino ad arrivare a Checchi, Checchini, anche questi attestati in altre forme, Franchi, se ne potrebbe citare un numero elevatissimo. Anche per la tradizionale attitudine della popolazione toscana in genere di vezzeggiare, di giocare sui diminuitivi. Soprattutto mettendo l'ultima parte del nome e non la prima, perché Cecchi è più vicino a Cecco, Francesco. Quello in generale, tutti i diminuitivi dei nomi erano sempre sulla parte finale dei nomi. Da qui vengono fuori vari nomi come Rico, Ricco, Rigo, Arrigo, da Federico. Oppure, per quanto riguarda, se si pensa a Luigi, che è venuto fuori Gigi, che non è neanche così legato alla parte iniziale del nome, ma se ne possono citare altissimi nomi. In generale, diciamo, ecco, i cognomi e i diminuitivi provengono dalla parte finale del nome. Parliamo della ricerca genealogica. Ecco, innanzitutto, perché negli ultimi tempi sono tornate un po' di moda o comunque molte persone richiedono la ricerca genealogica? Che cos'è e come si fa? Allora, sono diverse categorie e tipologie di persone quelle che si avvicinano per iniziare una ricerca genealogica. C'è innanzitutto una voglia di riscoperta del passato della propria famiglia legata a un contesto culturale di, come quello contemporaneo, dove ci sono sempre più frequenti spostamenti e mobilità, soprattutto da parte dei giovani, che in passato, diciamo, era meno presente, principalmente per la Toscana, e che quindi, diciamo, che l'eredità familiare sostituiva un po' questo bisogno. Poi c'è, innanzitutto, anche, diciamo, la presenza di tante famiglie che nel corso del Novecento sono emigrate fuori dall'Europa, addirittura in Australia, Stati Uniti, in America Meridionale, e che richiedono, ovviamente, la ricerca, non tanto e non solo, diciamo, per un bisogno culturale, ma anche perché, in virtù di trattati bilaterali, consentono la doppia cittadinanza. E non sono poche le famiglie dell'America Meridionale che, proprio in questi anni, stanno richiedendo questo permesso perché consente loro un diverso status giuridico nel paese di residenza. Infine, sottolineo il caso originale, anche perché ha riguardato anche alcune famiglie pratesi, il caso della confessione religiosa dei mormoni, che in America è molto diffusa, e che quindi ha fatto proseliti anche fra famiglie di origine toscana e italiana, che hanno come, diciamo, richiesta da parte della propria credo quella di ribattezzare tutti i propri antenati deceduti. Quindi, per loro, diciamo, la ricerca genealogica è un compito della propria vita spirituale. Quindi, questo è un caso particolare, però, che ha portato, come conseguenza, la digitalizzazione di tantissimi archivi toscani a titolo gratuito da parte, appunto, di ricercatori mormoni che attualmente vivono in Italia e che si occupano proprio di questo. A questo proposito, sempre sulla ricerca genealogica e sulle curiosità, possiamo sfatare alcuni miti. Spesso, in alcuni centri commerciali, si vedono degli stand che dicono possiamo fare la ricerca araldica del proprio cognome per vedere se si è nobili. Spesso sono quasi tutti nobili. Ecco, sono ricerche veritiere e soprattutto siamo tutti nobili? Non sono veritiere, non siamo tutti nobili. Anche perché la nobiltà in Toscana è stata istituita solamente alla metà del Settecento, con l'arrivo dei Lorena. Pochi sanno che in Toscana, ad eccezione di un numero che si conta sulle dita di una mano di famiglie, la tradizione comunale e repubblicana della storia delle grandi repubbliche di Firenze, di Siena, di Lucca, di Pisa, aveva fatto in modo tale che per cui c'era anche proprio il vanto di allontanare la nobiltà da questa regione. Quindi, ecco, è molto difficile che queste siano veritiere. In più, chi fa una ricerca genealogica deve sempre dubitare di quelle che si chiamano fonti dirette. Cioè fonti, documenti, diplomi o appunto, nel caso, quello dei centri commerciali, fatte ad hoc per dimostrare la propria antichità. Meglio utilizzare fonti coeve e indirette, cioè fatte per altri motivi e ragioni, perché sono più credibili. Bene, e sempre rimanendo sui cognomi, da quanto tempo sono obbligatori, per esempio nel nostro paese, in Italia? Ecco, anche questo è interessante, è poco noto che l'obbligo legislativo, quindi l'obbligo civile di attribuire un cognome a ciascuna persona arriva in Toscana nel 1808 con la dominazione francese e l'istituzione dello Stato civile, perché prima non esisteva un ufficio pubblico di Stato civile e questo caratterizza anche tutte le regioni d'Italia che erano state conquistate dai francesi. Viene poi fatto tesoro di questa innovazione anche dalle altre parti d'Italia, solamente negli anni successivi. Quindi, diciamo, fino a quell'epoca non era obbligatorio e c'erano parti d'Italia, compresa in Toscana la Maremma, dove ancora non si dava il cognome. L'Italia è una nazione in cui ci sono molti cognomi e diversi cognomi di varie tipologie. È noto, infatti, che l'Italia è lo Stato al mondo col più alto numero di cognomi in base alla popolazione residente. Per la varietà, per di usi locali e di consuetudini hanno portato alla nascita del cognome. Pensate che nei paesi scandinavi ancora oggi non esiste il cognome, ma non tanto per un fatto di arretratezza culturale o civile, ma piuttosto perché la densità di popolazione è tale delle varie località, per cui il comune di residenza e il nome del padre sono sufficienti per identificare la persona. Io ringrazio Francesco Bettarini per essere intervenuto, ha detto molte cose che hanno, penso, suscitato la curiosità di tutti. Io lo ringrazio e vi do appuntamento per una nuova puntata di queste interviste. Grazie a tutti.